Eccolo! Tu serai un'altra piccola vittima! Ammazza-lo! Ma che parte? Oh! Lo sapevo io! E saluto Wikipedia e ben ritrovati in un nuovo appuntamento alle 15 in punto Oggi, come abbiamo visto già da titolo, effettuerò un tutorial Un tutorial molto particolare perché si tratta appunto di come poter uccidere le persone in Far Cry 4 Eh già, proprio... avete capito bene Ci sono vari tipi, diversi modi, uccidere una persona in Far Cry E oggi le andremo a scoprire Oh, non mi ricordo dove eravamo Però quello che mi ricordo è che dobbiamo andare ad incontrare un bel rinoceronte Oppure delle persone, oppure... Oh, 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 oh Boom! L'ho ucciso? No! Non ha ucciso il maiale! Iniziamo male, eh? Sento degli spari ma non mi importa per il momento Allora, la mappa... Dobbiamo andare qui Aiuto! Aiuto! Sento gridare aiuto! Ecco qua la nostra prima vittima Come poter uccidere una vittima ignara e indifesa? Allora, innanzitutto appostarsi piano piano alla vittima Perché scappi? È un'aquila! Eccola qua! Allora, avvicinarsi molto delicatamente alla vittima Premere il tasto delle esche e lanciare l'esca là Eccola qua! Adesso si aspetta il giaguarro... Dov'è il giaguarro? Oh, ma... Ma è lì! Deve attaccare lui! Lo sento! Dov'è il ghepardo? Dov'è quel ghepardo? Eccolo! Eccolo qua! Vieni qua, ghepardino! Vieni qua, ghepardino! Eccoli! Ammazzato il ghepardino! Dov'è la carcassa del ghepardino? Eccola qua, la carcassa del ghepardino! Dov'è il rinoceronte? Dov'è? Ah, se non mi sbaglio, dovrebbe essere qua il rinoceronte Dov'è? Aia! E vieni qua! Oh, eccolo! Mamma mia! Oh, sta scappando! Sapete che voglio ucciderlo, sì? Lo stiamo studiando! Finalmente, dopo tanto tempo, studierò il rinoceronte! Lo toccherò! No! 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 Non ti avvicinare! Au! Fuck! Aia! Aiaiaiaiaiaiaiaia! Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Oh, che fai? Scappi? Coniglio Dritta superi il culo No, no, no Ok, rimani là, perfetto E ti ammazzo Colpa la testa, dove vai? Dove vai? Un alto colpettino al culo Sì, scappa coniglio Un alto colpettino alla testa Eh, scappi eh Vieni qua, coniglio Pam Ti ho in pugno, lorido Ancora, sì, dove vai? Nella città, eh? Vuoi fare il bordello con le macchine? Io ti metto dietro, così per te è più facile colpirmi Pam, il culetto No, no, non mi uccidete Il rinoceronte Pam Oh, caspio Si rimette dritta, si rimette dritta Oh, oh Aia, no, 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 no No, no, no 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 Sì, tranquillo Oh mio Dio, è inferocito È inferocito Oh mio Dio Per poco Per pochissimo Oh Oh, oh, oh Pam Oh mio Dio È morto È morto È morto, è mortissimo E tu? Mori insieme a loro Mettiamo la carne Butta la carne Qua rientra in macchina Oh mio Dio Dove è il ghepardo? L'ho matta Ecco il primo modo per uccidere una persona Buttate la carne Ci penserà il ghepardo Dove è andato? Wow Bellissimo No 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 Oh mio Dio Prendi la carne Prendi l'esca Il rinoceronte Frecce per uno Per uno Per uno Per lenti rinoceronte Esca Tu che c'hai? Carte da gioco Avete appena visto due rapidi metodi Per poter uccidere una persona Sul far cry Una è quella di essere caricata da un rinoceronte La seconda È quella di lanciare un'esca Su un personaggio Quindi farlo uccidere da un ghepardo Comunque sia da un orso O da qualunque cosa lo uccida E questo? Questo lo dobbiamo perquisire Eh Ma sei pazzo Fammi salire Ah tu vieni con me? Ah scendi E beh Tu morirai dal ghepardo allora Tu serai Un'altra piccola Vittima Dove? Eccolo Dai ammazzalo Ammazzalo Ah ammazzato Dove vai? Ghepardino Ammazzare il ghepardino Cosa è il ghepardo? Oh Lo sapevo io Il bastardo Mi ha attaccato alle spalle Oh Oh Ah Sgogliato Questi sono pesci molto pericolosi Come abbiamo già visto Dai precedenti episodi Eccolo Vieni Ah Non si può uccidere Perché è sott'acqua Scappi E io prendo la canoa L'altro modo È quello di farli saltare Letteralmente Per aria E Piazza Detona Ah Spariti tutti E non ci avevano Neanche Niente ci avevano Sapete qual è il vero piacere? Far esplodere Una macchina Col C4 Amo la distruzione Oh È quello Ah Ha preso Ha preso quel cervo Oh È più scura l'acqua qui Non mi fido Si sta accendendo tutto Tutto il bosco va a fuoco Quel faggiano lo prendo In Pieno Eh dai Faggiano di un faggiano Oh In piena testa Oh mamma mia Non muore Il furetto è invincibile Ah Giornale di un doppia pelle Furetto spazzino Che ammazza Spazzino Ah Mamma mia Mi volevi fregare eh Mi volevi fregare Oh T'aquila del cavolo Ti scuoio tutta Mardala Eh Ah Ammazzo tutta Ti ammazzo Ebbene Oggi vi ho fatto vedere Come poter uccidere Animali Rinoceronti E persone Molto semplicemente Su Far Cry 4 Ovviamente È stata una giornata Di vero e proprio cazzeggio Aspettando Quello che potrebbe essere Il grande ritorno Con Far Cry 5 Ci vediamo nel prossimo episodio Di Far Cry Continueremo la nostra campagna Ovviamente Prima che Far Cry 5 esca Finiremo definitivamente Far Cry 4 Io vi lascio qui con un saluto Ci vediamo domani Ore 15 in punto Polliciate Condividete Fate sapere a tutti Quali sono i modi Per uccidere una persona Su Far Cry 4 E noi ci vediamo In un prossimo video Salute Kip Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.